Magna Grecia Magna Grecia nasce da un sogno e dalla volontà di aiutare il calcio di cercare di migliorarlo nel nostro piccolo solo migliorare il nostro calcio per noi, per i nostri giovani, per i nostri figli vogliamo solo ricordare e insegnare quali sono i valori del calcio che è uno sport ed è una metafora della vita socializzazione, lealtà, rispetto delle regole rispetto agli avversari quest'anno cominceremo pure a selezionare i ragazzi e i bambini per l'avviamento alla scuola calcio portaci i tuoi figli per la scuola calcio ragazzi e bambini da sei anni in poi cercheremo di avviarli al calcio ma principalmente gli parleremo e cercheremo di aiutarli ad essere ragazzi per bene sembra banale perché pare che tutti parlino di sport però poi bisogna vedere con quale coerenza lavorano per inculcare ai ragazzi e ai bambini questi valori e non quelli di prevaricazione, di vittoria ad ogni costo che sono già atteggiamenti devianti perché questo è Magna Grecia lealtà, passione che brucia e spirito guerriero grazie a tutti 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 grazie a tutti